Grazie a tutti. 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 Un ciclismo particolare che è stato interpretato in modo eccesso da Giuliano Calone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un attimo di silenzio. Grazie a tutti. 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 Dvd. Grazie a tutti. Unico al mondo. è un atleta a tutti. il direttore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un momento però. Grazie a tutti. tanti anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. vedete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque è una piccola storia nata da musicisti, dopo che parlerò del resto delle mie imprese, qui ci sono dei personaggi, una piccola storia nata dagli anni 60, quando appunto suonavo con quello che avevo freddo con i guanti, il freddo che c'era, fino ai nostri tempi o poi diciamo. Beh, l'ha fatto di bravo, veniva a casa mia a provare, infatti mia moglie non mi ha mai lasciato solo, perché era fatto come cavallo, poi altri parti, insomma, abbiamo accompagnato i grandi politici, insomma, è una storia tutta particolare. Ma Beppo da Corsi, dov'è? Beppo! Ma quando stai lì a fare? E questo era il problema di città. Il trombettista che ha fatto quel lavoro, sono di bravi umorecissimi, ma perché dobbiamo sciogliersi? E abbiamo fatto, lui ha impostato i fiati, lui era trombettista, ma gli altri, io ero un bassista, non ho mai toccato un bar, l'altro abbiamo informato qua al complesso, e siamo partiti con tre fiati, e vi assicuro che è stato un grande successo, con strumenti che non erano nostri, e questa è la cosa più incredibile. Gli ho raccontato un po' la storia della musica, anche quattro fiati, poi c'era anche lui, che è rato, eccetera, eccetera. Questa è la persona più, non lasciamo stare, mi faceva di che scherzi terribili, va bene, è meglio non nominare la storia. Sapendo, sapendo, perché Mike Bongione e Paul veramente mi diceva, ma lei deve essere un guidatore eccezionale. E loro quando salivano in macchina con me, si facevano il segno alla croce, perché erano solo tre, ho distrutto quattordici macchine, ho fuso, ha vinto tre anni con le prime macchine, tre Volkswagen, ma quello che abbiamo mai toccato. E' la prima che abbiamo vinto. E' la prima che abbiamo vinto, lui, ma venne a cipostare una roba. E' la seconda. Io ho raccontato in breve ancora la storia, adesso facciamo invece. Hai miei precedenti record. Devi anche raccontare, quella volta... Anche la roba. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Posso io dire una cosa di Giuliano? Ecco, bene, bene. Un signore che ha assistito nei primi tre tornanti, è stato lì nelle notti... Sono stato lì a tre giorni da casa. Sono andato al passato dello stereo per vedere proprio Giuliano. Le prime due notti, lasciamo stare, pioveva. E' saltato tutto. La terza, come avete visto lì, era teso al massimo. Io l'ho ripreso, avrei anche un piccolo filmato se volevo farlo vedere. Va bene. Io l'ho ripreso prima che tirasse fuori la bici dal furgone. Aveva una tensione, una carica, una cosa incredibile. E non vedevo ora che il regista lì gli aprisse il portellone per tirare fuori la bicicletta. Poi ha fatto un giro del furgone con la bicicletta, l'ha controllata con calma a vedere se tutto era a posto. E dopo io non l'ho visto partire perché ho dovuto andare su di corsa il suo primo tornante che volevo tirarlo giù lì. E infatti lui è partito, è arrivato qui, che gli faceva il film con la macchina, con il portellone alzato. E arriva lui con sta lampadina, sta pile in mano. Abbiamo visto. Una cosa da brividi. Io gli ho detto anche delle parole a lui. Che al momento lì ha fatto il tornante. E dopo il tornante si è addrizzata la strada e ha detto che smuffata di vento. C'era un vento che tirava. La temperatura si aggirava quasi zero gradi. Io era quasi un quarto d'ora e vinti minuti che lo aspettavo, ero tutto infridulito. Vada, è stata l'emozione per me più grande della mia vita. Ancora oggi i miei occhi non possono credere quello che quella notte ha visto. Lo porterò nel cuore e nella mente per sempre. E questo è il grande Giuliano. Ogni modo, siamo qui. Parliamo un po' della parte sportiva. Parliamo quella parte sportiva. L'artista. Ma è un po' difficile. Parliamo della salita dello Stelvio con 48 tornanti di ghiaccia. Quando Pizzo della Rai mi ha chiamato all'ottelgale di Milano, c'era Maspe, il più grande della storia del ciclismo. E ha sentito dei 14 passi in 13 ore, 330 chilometri, che non sono 330 chilometri, sono 380, perché venendo giù in diagonale, sminuendo la pendenza attraverso le vibrazioni del corpo, il percorso diventa molto più grande. Allora, 380 chilometri senza manubri e senza premi corrispondono a uno sforzo fisico di 800 chilometri fisico. Quando ho annunciato, voglio scalare lo Stelvio in 48 tornanti di ghiaccia. Eh no, dice, ti abbiamo dato l'ennesima medaglia d'oro, perché di medaglia d'oro, fortunatamente se muoio, mi sostengono le mie vecchiaie se le vendo, ma non le venderò mai. Ha detto, ma questo non me lo dice, perché lui nel Bondone ci siamo a fare, tutto il giro d'Italia si sono fermati e si è ritirato mezzo giro d'Italia con la mano, ma il motone non è lo Stelvio, lo Stelvio è più difficile del Bondone. E tu mi vieni a dire che mi scavi lo Stelvio senza manubrio, senza premi. E questo credo sia, allora, sono andato a 3.000 metri, io ho tutte le fotografie, tutti i documenti, ho 10 ore di immagini. Sono andato sullo Stelvio e, con l'accordo con una grande nevicata, mi hanno schiacciato la neve e lì c'erano 10 gradi sotto zero. Ho aspettato naturalmente le condizioni ideali, perché avevo provato un mese a 3.300 metri di ghiaccio, di altezza, per studiare i ghiacci. E ho capito che con 10 gradi sotto zero e un leggero nevischio che ricopriva lo strato di ghiaccio, riuscivo a fare trazione alla ruota. Annunciare che se voi leggete i miei libri, le gomme, e lui sa qualcosa che mi ha visto in azione. Questo era il figlio del famoso portiere del Padova, Giorgio Bolognesi. Dici due parole tu in Tarantopio. Lui mi ha visto sul ghiaccio a Padova. Comunque prima torniamo dello Stelvio, dopo parlo del ghiaccio a Padova. Cosa succede? Sono partito e non portavo gli occhiali, perché avevo paura che il piatto, mia ne piaccia la vista, no? E ho cominciato questa carellata di tornanti, perché poi io vi darò, quelli che avranno il filmato dei signori, vi do un supplemento di filmato. Naturalmente un film racconta un po' la storia della mia vita, ma non vedete quello che ho fatto. Vedete, cinque ore di filmati lì, vedrete quando va tutto il tempo di Berdani, non sullo Stelvio. Vedrete cose che non potete neanche immaginare. Allora, cosa succede? Arrivo al 47esimo, perché dovevo allargare le curve, altrimenti se le incline così, è a terra. E avevo gli occhi ormai tutti arrossati, e lo sforzo era talmente spaventoso, che non riuscivo più, non avevo più energia. Allora, a sei tornanti, sentivo che ormai avevo, ormai avevo speso ogni mestia fisica, non avevo più, non avevo più forza. Sono arrivato al 48esimo tornando, sono corrollato, mi hanno portato all'ospedale, sono stato sette giorni, con i figli con giornati, e 16 giorni con gli occhi rossi, perché guardare il bianco della neve per 48 tornati, e li ho preso il numero di medaglia. Questo è uno dei miei record, è uno dei miei record. Poi invece era salito al serve con una gamba sola, ha un significato anche quella. Perché con una gamba? Perché quando io ho fatto la prima trasmissione su Rai Uni, in bianco nero, con la buona corrida, in Italia Sera, e subito mi ha preso marmellate, i miei recordi, mi ha beccato subito. Mi ha detto, tu voglio il mio marco, perché io, nei miei libri c'è scritto che faccio questo, porto messaggi di antidroga per i giovani. Voi non sapete, per esempio, che a Taiwan, sono andato io, no, Valentino Rossi, hanno visto alcuni servizi mail, ho tutte le documentazioni, e ho aperto i giochi di gallina, con 26 mila, perché me l'ho portato io da tocca. È stato un successo incredibile, ho fatto università, scuole, e mi ha fatto un'accoglienza, e adesso mi ha limitato di nuovo. Vado per le scuole a portare questo messaggio, perché i ragazzi non credono più, vogliono gli impatti. E quando vedono i miei filmati, che non sono solo questi, ce l'hanno quelli che vedono l'azione del vivo, vedono più la parola, e perché l'ho fatto in età definitiva, questo è il fatto. Allora, perché l'ho fatto con una gamba sola? Perché un ragazzo senza gamba mi ha venuto vicino e dice, l'ho visto per la televisione, e io non posso più andare, è più grande il dolore di il dolore. Mi ha fatto un mosso questa ragazza. E io ti dico che non mi spesa, perché anch'io ritenevo impossibile, e ho scalato lo stelvio un'ora e 36 minuti, ritengo spaventato. E lo stelvio, con due mani, si scala in due ore e mezza, e non ci sono billi, i colori lo sanno, non c'è ancora. Poi nel filmato che vedrete, quello che vi darò anch'io, vedrete quando gli ultimi tornanti andavano su addirittura 27-28 km, senza gamba, era una cosa. Tante cose non si sanno, sono padovano, ma tanti padovano non sanno. Nel secondo film vedrete queste cose, vi renderete conto di cosa io ho cercato di fare. Perché le mie imprese non parlano solo di approbazia, l'approbazia lo lascio a parte un po', parlano di tempi. Quando finito dalla RAIA ha detto, in quanti giorni 14 passi, 130, 12 ore, minuti, 17 secondi, questi sono i tempi. E sono i tempi spaventati. C'è qualcun altro nel mondo? Hanno tentato quello del ghiaccio? Ecco lo qui. Io ho dedicato a Fiorenzo Magni, che vi ho detto, un record giorno che ha compiuto 87 anni. Quando gli ho portato le mie biciclette, le mie biciclette le trovate nei musei di coppia, di parte, sono ormai mortarate nella storia, allora, no, ma il ghiaccio è a caso di giuro. Allora, mi sono incimentato, ma mi sono detto, su ghiaccio, ho fatto 5 record su ghiaccio vivo. Ma allora, come si fa con una gomma senza ghiaccio? E senza alcun accorgimento tecnico che mi permetta qualsiasi aderenza al ghiaccio? Allora, io penso di essere stato il primo a voto, mi interessa questo, essere il primo a voto. Il secondo, chi è andato sulla luna per primo? Va bene, lo guardavano i migliori, sicuro lo guardavano i migliori. Io credo sia stato il primo a dimostrare. Lui ha visto il quinto record, l'ho fatto a Padova, perché il comune di Padova mi chiama, ma tu fai il record di qua, vai a Genova, vai da una parte, vai all'estero a fare il record, allora io non volevo Padova, perché fare un record a Padova, sentendo quello che ha fatto anche all'estero, eccetera, avevo paura, paura di sbagliare, e andare di fronte al pubblico, e che c'era, c'era la letteratura, c'era il ghiaccio, sono venuto al primo sito quando non era lì, ma tu dici cosa hai visto? C'era la pista di ghiaccio, era lì con Pella, l'avete visto per un attimo, l'abbiamo un po' stimolato a fare questo, lui aveva iniziato a fare queste record, con le... sono paletti, e avevamo iniziato a... 46 settimici passi, oltre che andare in viaggio, passandoci... l'avevi già iniziato, però... il primo record che è entrato, ieri filmato, era Donuzio, poi l'ho ribattuto a Porto Antico di Genova, dal 228 Porte, 35 in alto a Porto Antico di Genova, no, 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 5 sui viaggi, 5 sui viaggi, 6. Poi, all'anno di Adegher, l'ho dedicato a Fiorinzo Mami, il giorno che ho pubblicato, 37 anni, dopo l'ho apprecciato, non ho messo gli anni, mi è fatto più fare capo, entrare, fare il record, il giorno che ho pubblicato, 37 anni. Poi, noi, e la quinta volta, a Paolo, a Paolo, a Paolo, parla con me qua, e abbiamo visto, l'uomo, era mezz'ora, mezz'ora, però dovevi battere, era mezz'ora, avevi dato come record, per battere, un numero più forte, l'hai superato, di 9, di 10, se non sbaglio, tu l'hai stabilito, cioè, tu l'hai stabilito, un punto, su forte, con la bici, normalissima, come la strada, senza manufrio, senza un ghiaccio vivo, noi eravamo tutti, attaccati alla ballarutta, e lui invidavamo, quindi l'abbiamo, eh, l'intero di forza, si è fatto, lo voglio, io, 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 ho triplicato, record, 498 volte, senza mai cadere, molto di più di quelli che erano, e gli dicevamo, basta, basta, Giuliano, basta, c'è stata una caduta, ecco, la caduta che avete visto, ogni record, io volevo superare me stesso, allora, la discesa da un tempio, senza valore, senza premio, la avevo già fatta, ma io poi l'ho ripetuta, e ho ripetuto tutti i miei primari, io ho battuto il tempo, già venire giù senza manubrio, salvare la pelle, è già molto, ma venire giù a tempo, ecco, diventa una cosa ancora più incredibile, no? E allora, cosa succede? Che abbiamo messo, ogni tornante, due valenti larghi, 52 cittadini, e li passiamo col corpo, la RAI viene, riprendere, arrivo al 30 centesimo tornante, e naturalmente, una roba fatta, deve essere stato, un elicottero si è abbassato, mi ha fatto un bordecettare, non potete riprenderti, con le telecamere, dell'elicottero, mi ha fatto un bordecettare, e mi ha dato, capisco no? noi ci siamo molto, erano talmente, i tuoi altri ormai, c'erano i tuoi altri, e ci sono passati, e c'è stata la caduta, che mi rialzo, riprendo la corsa, tra dolori atroci, finisco, entro per la, non la volta, negli risprimanti, e Dezan parlava di parlare in cura, interrompe la trasmissione, dice, ci giunge allo stile, notizia che ha detto, ormai siamo abituati a questo palomato, che ha distrutto il mitico passo, però questa volta, ha superato se stesso, mai vi era successo, una caduta così grande, dice, e lui ha ripreso, ha terminato, inspiegabile, anche a livello medico, scientifico, tra la dolori, e tra il suo stato, 40 giorni poi, l'unico incendio, che ho avuto la gamba fasciata, e d'ora lì, dice, gigante, voleva stritolare lo stanco, di esser pegliano, e lo ha battuto per l'ennesima volta, ed è lì, ha montonito, con i suoi bianchi, e il cimino di davanti, questo è stato il comitato del sangue. Grande Giuliano, calore e la pagova, mitico! Grazie! Grazie! Un piano! Siamo, qui, questa sera, abbiamo, quasi, 80 anni, io e io, 79, uno, non te l'avamo in più, 89, o quasi tutto, quasi 80, 79 io e 79 solo che io sono venuto qua accompagnato di un figlio perché non sono davanti e lui sta pensando lui mi fa sfuggire una cosa lago di Resia sono tre anni che aspetto lago di Ghiacciato purtroppo non volevano la televisione italiana volevano quell'austrieca che sono vicino all'austria allora passava la macchina e levava la neve e volevo fare 12 km di ghiaccio senza chiodi sempre con i soliti spettacolari c'è anche la campanina solo che a questo punto non è stato possibile perché quello che passava spruzzava la vado di suca allora cosa ho fatto ho ripreso l'anno successivo l'anno scorso sono andato di nuovo ma la temperatura era troppo quest'anno era il colpo giusto quest'anno c'era ma ero impegnato qui una cosa tra l'altra e quest'anno io volevo fare una sorpresa l'anno scorso le altre 79 anni l'ultima domanda come che altro fa riuscare il testo il sommato su di amore no a momento sapete perché senza manubrio perché pesa perché quando ecco questa è una cosa molto importante ma qui c'è il signore figlio dell'Alan non so dove sia ecco vieni qui vieni qui questo è suo padre è uno dei miei sponsor l'Alan di Saccolongo che ha fatto ed è successo un fatto incredibile i giornali quando la RAI è venuta a riprendere quando ho detto io sono il primo uomo a calare lo stegno di sempre senza usare le mani a manubrio era una cosa più sensazionale mai successa la RAI subito veniva perché la RAI l'ha portato via tutto quest'anno invece sono anche venuti i signori qui la RAI non le mette in piede in piedi in imprese facciamo noi infatti la RAI voleva questo servizio ci sono solo attaccati lo avete visto voi per la stessa allora cosa fa? dove eravamo arrivati? scusate allora per il prezziato per il prezziato momento perché ci fermiamo un istante hai tante persone in piedi che ti stanno aspettando ma noi questa sera non avremmo potuto godere di tutte le imprese di Giuliano se non ci fossero stati i tecnici il regista la produzione di Stato grazie a tutti grazie 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 la prima del film sarà a Torino tra un mese però ci faccio la piacere essere qui diciamo prima della prima sull'arte di Stizio per presentarlo agli amici di Giuliano questa serata perché la comunicazione di chi è anche la razzola è stata quindi signor Nezanti signor Regalzo grazie e ci sono stati gentilissimi con noi che hanno detto i miei libri che vogliono questo purtroppo questo libro non è possibile dare noi abbiamo solo 150 copie che vanno nei bucei che vanno a rispegnare gli ultimi anni della mia attività e quindi non ho no no noi abbiamo già Giuliano grazie grazie allora ecco buona volta con le domande chi ha domande? buone un attimo grazie va in ordine tanto difficile di essere perché senza tutte abbiamo delle domande allora pensavo non è possibile stabilire sempre i bimbi non mettere mai le mani tra l'altro bisogna la protezione la maggiore no lavorare senza mani ecco vieni vieni qui vieni qui allora vado dal suo papà perché la gazzetta mi ha attaccato e rincazzata che non avevano questo servizio che io allora era la prima impresa e mi hanno sparato l'articolo punto tremendo non ci lasciamo in giro a galla le piacche io ho tutti i servizi che voglio abbiamo corso in bicicletta anche noi i nostri campioni si rifiutano a citarmi i veri umanamenti impossibili poi ne ho fatto altre 13 allora dice se il signor Dolore vorrà ripetersi i nostri occhi ci sono molti milioni di vecchie dire a sua disposizione io ho conto subito chiamo l'auricato io vi ripeto è deposito di soldi la RAI ha trasmesso dopo 9 giorni perché ha curato bene i servizi cosa succede? dopo 6 giorni la RAI non trasmette allora mi sparo un altro tipo ma da dove è stata fuori questo padovano che conosciamo come pianista ma non come scalatorio io appena parivo all'improvviso no che dice la RAI avrebbe immortalato l'impresa e nasce la sfida si parla di diecine di milioni ne hanno parlato tutti i giornali io ho chiamato l'avvocato li aspetto signori e mi ripeto cosa succede? non è possibile che non abbia mai messo le mani nel manubilo nei momenti più difficili allora sono andato dal papà suo signor Falconi mi levi il manubilo e fa il massito via le testa e dice se ti dico non è possibile lei mi levi il manubilo ho fatto la prova con un tassano la prova mi resta i secondi dopo l'oppe perché ci sono state citazioni in tribunale adesso o mi chiedete scusa io vi scutano tutto il mondo lo scherzo lì e vi faccio vedere che è un padovano cosa succede? hanno preso paura perché ho detto vi do l'ultimato io la televisione sono tutte 5 giornalisti ma poi c'era la capa lunga c'era la cessa per vedermi l'azione dal vivo e mi presento senza manubilo senza prof e dice ma cosa fa con questa bicicletta o proprio lascia stare la mia bicicletta e cosa fa con gli strumenti musicali ma sa che annoia scalare lo stello senza musica mi annoierei da morire li ho presi per sedere mi sono caricato un amplificatore che si vede i miei film vedrete i miei film quelli che vi do un amplificatore con la cintura batteria elettronica per vedere che vado a tempo con il tempo poi ho caricato ma ho portato nella cracchetta e uno alla volta cambiamo lo strumento senza mai fermarmi mi accompagniamo per farmi cadere e ho scalato 48 tornanti tirando su 33 kg di peso e passavo i corridori con le mani si vede sulle gazzette sportive stanno passando i corridori ecco questo è uno dei racconti tanti aspetta che c'è viene dalla Toscana venga venga questo signore viene dalla Toscana deve ritornare in Toscana stasera vai con la domanda vai con la domanda in quanto ho visto questo film stasera che è una una suspense veramente una suspense altro che quando si parla dice il signor Stelvio giustamente io che pratico sport aeronautici ha parlato quando è caduto dell'elicottero che in pratica è passato basso ed è vero l'elicottero quando è basso fa dei rotori la rotante fa dei rotori discendenti e ascendenti veramente impetuosi addirittura se si trova vicino a una pista un piccolo aereo lo può completamente mettere fuori controllo mi viene in mente la riscesa dello Stelvio che abbiamo visto di notte si parla di vento il vento è un alleato ma è anche un po' pericoloso perché si parla poi di velocità i tornanti si ripetono generalmente a 180 gradi l'uno dall'altro il che vuol dire che se c'è una raffica di vento se è contrario la ground speed o la velocità al suolo è se c'è una componente di 10 km se la sua velocità in quel momento sono 50 km l'ora 45 km l'ora diventa in automatico 10 km meno attenzione nel tornante successivo se la sua velocità sono di 45-50 km l'ora l'ora la sua velocità la ground speed diventa di 60 km l'ora io immagino che ho praticato anche da giovane lo sport e la bicicletta uno che parte di cima allo stelto senza manubrio dal momento che parte dove si appiglia se succede qualcosa capisco la meticolosità la miscela di cose che Giuliano ha messo a punto non sapendo anche il rischio che correva e questo ha dimostrato il suo record ha dimostrato che è stato una cosa più che eccezionale senza dilungarmi già Ambrosio Fogar aveva detto la parola impossibile non esiste io dico la parola impossibile Giuliano l'ha domata non una volta ma ha parlato di 18 record dell'ha domata di 18 grazie grande grande e onore a Giuliano Calore sei grande Giuliano c'è una penna dove ho scaricato delle foto che tu non hai perché sono due rappresentazioni una a Calenzano e una a Pistoia tendo a precisare la distanza dei paletti si vede misurata dal sottoscritto e dal signor Mario di Bici d'Epoca se la guardate sono 32 cm basta vedere e verificare sicché passare fra i paletti pronto stai intervistando me un'altra cosa mia figlia che è mi dono due bottiglie di vino al grande campione Giuliano Calone Lino Tamburini e questo è quello che io posso grande 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 il film parla di 50 un piccolo errore di registi dove sono? parlate di 50 km qui c'è un signore Lami dove è Lami? eccolo qui lui che ha seguito le mie corsi in macchina vi spiegherà quali velocità ho raggiunto quando ho fatto il tempo a record con 27 minuti e un secondo lui può spiegare perché se ve lo dico io dice ma che fantasia hai? spieghi la velocità dove hanno sbagliato i registi buonasera a tutti allora una delle tante imprese della discesa intanto ogni impresa sua è stata anche per noi un'avventura ma un'avventura anche addettata si vede nel filmato anche dalla così improvvisazione in certo senso intanto il traffico era sempre libero sempre aperto la strada non era chiusa riservata solo a lui si vedeva anche nelle imprese quindi pericolo quindi esattamente quindi aggravato e in questa discesa noi in quel momento allora siamo partiti davanti per fargli da staffetta per fargli diciamo da free pista avevamo la macchina dei carabinieri noi all'epoca avevamo un ritmo quella era la macchina e praticamente abbiamo toccato i 90 km orari sempre cioè praticamente abbiamo biscottato i freni chiaramente per tenere il passo a lui arrivato a un certo punto troviamo una madria di mucche in mezzo alla strada allora i carabinieri si fermano e si riesce in qualche maniera a liberare la strada perché lui sta arrivando in quello noi chiaramente lo lasciamo passare e passiamo dietro a tutta la carovana arrivato al punto dove c'è il ponticello che si passa si passa dalla parte dopo la discesa lui è caduto ma noi non ce ne siamo eravamo dietro e stavamo seguendo la carovana non ce ne siamo neanche accorti perché come è caduto e ha toccato per terra ti va praticamente è rimbalzato su e è partito sempre comunque macchine macchine distrutte i freni chiaramente sono stati biscottati i motori non se ne parla poi di quello che abbiamo combinato poi raccontami in quella caduta che mi hai provocato tu io giuro non c'è quando con la macchina mi hai preceduto e non hai tenuto la velocità diciamo noi siamo andati a farci medicare dove è giù ma ho terminato lo stesso col salto e noi lasciamo stare questa lui andava sicuramente più veloce di noi con la macchina diciamo così la manovrare un mezzo diverso da quello che è la bicicletta chiaramente ha tutta un'altra agilità rispetto rispetto vediamo anche del papà dell'ala che ha seguito e venuto una domanda proprio parlando da questo intervento sulla velocità quindi al di là della velocità della bravura di quello che abbiamo visto questa sera ma come si fa a mantenere una velocità da non cadere visto che in discesa si solito la bicicletta prenda un abbrivio enorme qual è la tecnica che ti ha permesso di caricare tutto un attimo su focus c'era in prima pagina della mia foto che ha detto una cosa indescrivibile per cui si vede l'inclinazione in curva dovrebbe vedersi e questa era la serrita del servio con ghiaccio vediamo dovrebbe vedersi queste sono le lettere che mi scrive il figlio di Gino Bartoli ma dovrebbe esserci qui eccola qui focus guardate come è messa la bicicletta in curva allora vediamo tante e qui ci sarebbe da spiegare alcune cose quante cadute ci sono al giro d'Italia ma vedo cadute assurde assurde proprio perché il tubolare un superleggero non tiene mai come un tubolare i tubolari costano poco purtroppo no scusa i tubolari costano molto e non c'è più che ne ripare il superleggero costano quindi ma il tubolare ha una tenuta che non esiste al rispetto a un tubolare infatti vedete quante cadute vediamo anche sciocche sull'orosso ma il tuo scusa il tuo tubolare ha la camera ed è incollato cioè il tubolare normale è incollato Giuliano ma ti avevo fatto una domanda e se vuoi passare con qualche aria ecco qui sta da ragione qui si può capire che velocità no 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 se vi si avrà la velocità non caduta visto che una persona normale in bicicletta o frena o la frena esatto ovviamente prendi una velocità qualsiasi perché la vicenda è enorme com'è la tecnica per mantenere tu lo sai che io a me interessa le cose impossibili il possibile non va interessato questa è una cosa che io ritenendo impossibile spiegare no spiegami la velocità queste cose se tu mi vedi in azione mi vedi fare queste cose ma è la velocità che faccio ciò si riferisce si riferisce si riferisce ma la velocità ah la letale beh c'è un momento secondo me quando il medico io uso uso sul tubolare posteriori piede destro e sinistro ma non sempre a volte quando sbirgolo così è perché il tubolare si surriscalda perché quel tubolare così si riferisce e questa è la grande capacità che interguiscono si scalda e parte il tubolare saldi come un proiettile come è successo quando sono arrivato a Gomagoi e quando il papà del signore dell'ala c'è stata la caduta e la RAI non ha fatto tempo cambiare dovevo battere il tempo sul tempo mi battevo sul tempo allora mi hanno impiegato due minuti e l'ingegnere Falcone ha detto alzate che c'è la fe ancora avevo una fetuscia incredibile mi sono rialzato e a Gomagoi hanno detto che ho toccato una media spaventura perché oltre che venire giù pedalavo con rapporti impossibili per riuscire a battere il record perché avevo perso due minuti e ho battuto il record e l'ingegnere Falcone ha detto vedi che ce l'hai fatta è una cosa un po' anche spiegabile ma d'altronde io ho cercato sempre le cose spiegabili la domanda che mi hai fatta è un po' è un po' non so è anche un'istaggia poi vengo giù hai visto che vengo sminuisco con me e questa è una cosa vivrando la ruota così se sbaglio un piccolo momento gira su se stessa parte come un preghetto un pericolo che io ho avuto l'ho avuto quando a Gomagoi raggiungendo una velocità di quasi 90 ho chiuso le ginocchia perché le vibrazioni era una vibrazione di talaio e lì mi sono salvato perché lo sentavo come proiettile e tutti la RAI si è messo sui mani i capelli perché ha visto che smandava in modo paroloso e ho chiuso le ginocchia e ho fermato le vibrazioni perché la velocità mi ha portato non potendo mettere da questo manucchio come avete capito Giuliano è anche un personaggio molto modesto che parla poco di sé che non sa come esprimersi come raccontare i suoi eventi pertanto noi fra un po' ce ne andremo a casa ma se qualcuno vuole rimanere fino a domani mattina è garantito per esempio si potrebbe mettere la salita allo stelle quando potuto il tempo di Bernard Biro ah ma un momento un momento chi parla un esperto di ciclismo che ha vinto il Giro della Romagna vieni qua vieni qui ecco qua il grande questa signora che ha raffa e ha due figlie al Giro d'Italia voglio sentirci ecco qua un guardato ecco qua grande allora sapete chi ha il record della scalata dello staglio Coppi Caul Merckx Pantani Bernadio in fino chi ci ha messo di meno ma dirti Coppi ha impiegato meno di Bernardino con un terreno peggiore per dirti chi era Coppi e con lo staglato non come l'ha fatto Bernardino allora hai il tuo tempo e tu un'ora e 17 minuti e 18 secondi se eravate se volete c'è un animato che si vede queste robe quindi ho fatto un tempo migliore di Bernardino più di due minuti diciamoci della prestazione sportiva è a parte la bravura dei scendere in disera con il tacco ma la salita tu si è messo meno di Coppi Merckx Pantani di Bernardino non lo so so di Bernardino so che non lo so so che Coppi ha fatto un tempo migliore di Bernardino c'è scritto nella gazzetta lo sport che si vede qui comunque è una prestazione sportiva eccezionale madonna altro che eccezionale Giuliano Giuliano c'è anche i tempi e i record fare gare di ciclismo dimmi io bene tutti perché io sarò a Manicobio perché non fai i tuoi amici qua e si sa fuori a tutti che dovrei che sarei certo certo perché questo è tutto quando è un motivo fare gare di ciclismo fare gare di ciclismo io ho fatto tre gare a quarant'anni un momento attenzione le ho fatte io tre gare a quarant'anni ma non perché volessi fare le gare e quel signore il sassofonista qui ti mi ha imposto se non fai delle gare non sono più con te e non potevo perdere un elemento simile tre gare tre vittorie e ho riempito uno stanza di trofei però la gare non mi diceva più niente la gare è solo forza fisica qui non basta la forza fisica ci vuole la condizione mentale e tante altre cose tantissimi componenti a proposito che hai solo te sappiate una cosa questi signori hanno portato il film qui allora io metto un altro filmato mio gratuito di quattro ore e mezza dove vi vedrete tante cose naturalmente un film di onore non si può vedere tutto così avete il film è quattro ore e mezza circa di filmati incredibili questo ve lo do immagini a stesso prezzo quello che comprerete quattro ore e mezza signori non è un regalo un castigo grazie Giuliano allora grande Giuliano per avere il film rivolgetevi qua ai registi che li hanno portati perché tutti chiedono il film a me ma io non sono proprietario del film io ormai ho solo due coppi perché gli altri sono andati negli musei di coppi di bar quindi non sono più io proprietario allora però ho qui il film amico tranquillo come potete vedere il film di rego è molto tradizione la tradizione è un paese sì è un paese è un paese è un paese il film guarda è il fuor di scuola c'è